Ciao amica, amico, io sono Miss Fandellate e sono la moglie di Soccacci e anch'io mi faccio i cartici degli altri, grazie di essere qui ricorda di attivare la campanella per visionare altri video. Cosa è accaduto oggi è arrivata alla vostra passerina del web e accinguettato che sono stati convocati in palestra Amici 22. C'è nell'aria odore di provvedimento disciplinare. Entrato nella palestra Runigeri, visibilmente contrariato i cantanti sono stati rimproverati per il razzesciamento durante la lezione di teoria e dei scarsi progressi nel campo musicale. Spiccano tra i peggiori e la poca voglia di fare piccolo G, N e D G, Tommy Dali. Jeremy è intenzionato a chiedere agli autori un provvedimento che influirà sul loro percorso nel talent. Cosa succederà boh? Amica o amico sono soltanto voci, disfigli, rumoreggi, voci di corridoio, non c'è niente di sicuro e del domani non c'è certezza. E tu cosa ne pensi? A presto con nuove anticipazioni, news, indiscrezioni, non dimenticare di mettere un like. Un saluto con la famiglia a peggio. Ciao ciao! Caro amica o amico, ti va di guardare altri nostri favolosi video? Non ti resta che cliccare sul filmato scelto. Ti chiediamo di iscriverti al canale, attivare la campanella e lasciare un like e commentare. Cercaci anche negli altri social, la tv ci si diverte serenamente. per noi è importante e ci ripaga per il lavoro svolto. Un buon cammino nella vita!